Siamo in compagnia di Daniele Minichini, architetto di Piombino. Sono un giovane professionista di Piombino, mi occupo in particolare di interior design e design, oltre che di progettazione di eventi fielistici. Architetto Minichini, qual è l'idea alla base di questa mostra? Questa è un'area che si sviluppa su una superficie di 500 metri quadrati circa, con tre elementi fondamentali. Un'area dedicata ai workshop, un'area dedicata ad una galleria con percorso fotografico che parla dei progetti di showroom, un'area dedicata a possibili corner espositivi sempre dedicati all'interno dello showroom. Un concetto di allestimento molto semplice, dove la fa da padrone in nero, che è un colore molto neutro ed elegante, con due piccole architetture rivestite in materiale ceramico. La mostra è stata pensata in collaborazione con la redazione di showroom porte e finestre e presenta appunto dei corner dedicati agli showroom. Corner che possono essere utilizzati sia in showroom di altissimo livello e grande design, che in showroom di concetto molto più tranquillo e anche dimensione limitata.